Intorno a lui c'erano una mamma, un papà, due zii, sei nipoti e qualche amico di famiglia. Tutti piangevano o stavano per piangere o avevano appena pianto. Tranne io che sono il nipote più piccolo, ho sette anni e mi chiamo Mattia. Allora andiamo. E dove nonno? A passeggio. Facciamoci un bel giro di quelli che ci piacciono. E cosa dico alla mamma? La mamma aveva gli occhi chiusi e la gola che tremava. Se facciamo piano non se ne accorgerà nessuno. Nonno! È una nave di pirati! Chi è verso di noi? La nave sembrava lontana! Ma era vicina! Era una nave piccola! Siamo pillati! Siamo arrivati! Il nonno seduto dietro era diventato ancora un poco più piccolo. Forse ora più piccolo di me.